A proposito di felicità, cercatela, tutti i giorni, continuamente, anzi, chiunque mi ascolti ora si mette in cerca della felicità, ora, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene, che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutta l'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì, dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se a volte lei si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, saltate dentro l'esistenza ora, perché se non trovate niente ora, non troverete mai nulla, e qui l'eternità non ce n'è un'altra.